Oggi, domenica 18 aprile, la Regione Abruzzo ha comunicato 258 nuovi casi positivi al Covid-19, di età compresa tra 5 mesi e 94 anni, che hanno portato a 69.384 i contagiati dall'inizio della pandemia. 64 i nuovi casi in provincia dell'Aquila, 59 in quella di Chieti, 8 in provincia di Pescara e 117 in provincia di Teramo, la più colpita nelle ultime 24 ore, con gli altri 10 casi relativi a residenti fuori Regione o con residenza in accertamento. Eseguiti nelle ultime 24 ore 4.223 tamponi molecolari e 2.053 antigenici, per un totale di 6.276 test ed un tasso di positività in risalita al 4,1%. 4 le persone che hanno perso la vita rispetto a ieri è salito dunque a 2.333 il numero delle vittime, mentre il numero dei guariti è salito a 56.951, 25 le persone uscite dalla positività nelle ultime 24 ore a fronte degli attualmente positivi che invece salgono a 10.100 casi. La pressione sulle strutture osteodaliere rimane sostanzialmente inalterata, sia pure in lieve calo. 506 sono i ricoverati in area medica, 9 in meno nelle ultime 24 ore, 2 in più invece i ricoverati in terapia intensiva che salgono a 56. Gli altri 9.538 pazienti positivi al covid in Abruzzo sono attualmente nel regime di isolamento domiciliare.